buongiorno a tutti ben ritrovati sul mio canale in questo nuovo video vedremo altre domande di organizzazione scuole e miur per i concorsi della pubblica amministrazione quale dei seguenti principi non è conforme al quadro complessivo dell'istruzione scolastica sancito dalla costituzione degli articoli 33 34 è garantito il libero accesso premissioni vari ordini gradi e scuole senza necessità di sostenere i sani quale dei seguenti rientra tra i comiti del collegio dei docenti di un istituto scolastico previsto dal decreto legislativo 1977 1994 deliberare in materia il funzionamento didattico del circolo d'istituto quale i seguenti soggetti essensi d'articolo 6 del decreto legislativo 65 2017 definisce gli standard strutturali organizzativi qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia le regioni quale delle competenze attese al termine di percorso triennale della scuola dell'infanzia non viene elencata nelle indicazioni nazionali prende la parola gli scambi comunicativi dialogo conversazione discussione rispettando i turni di parola quale delle seguenti affermazioni corrette nell'ambito dell'ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica essensi del decreto legislativo del 197 1994 il ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca può concedere i sussidi per le scuole lo scopo di adattare e arrecare i locali destinati a palestre quale delle seguenti affermazioni non è contenuta nella costituzione italiana l'istruzione inferiore impartita per almeno cinque anni obbligatoria e gratuita quale delle seguenti affermazioni sui docenti specializzati in attività di sostegno e corretta alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 297 1994 fanno parte il consiglio di classe partecipano in pieno titolo operazione di votazione con diritto di voto quale delle seguenti affermazioni sui docenti specializzati in attività di sostegno e corretta alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 297 1994 fanno parte il consiglio di classe partecipano a pieno titolo alle operazioni di votazione con diritto di voto quale delle seguenti affermazioni sul curriculum d'istituto per la scuola dell'infanzia del primo ciclo di istruzione non è corretta finita a livello nazionale dal ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca quale delle seguenti attenative costituisce una delle finalità della scuola dell'infanzia in base al decreto legislativo 59 2004 concorre all'educazione allo sviluppo effettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale quale delle seguenti discipline non è oggetto di insegnamento di un istituto secondario di primo grado economia quale delle seguenti discipline non è oggetto di insegnamento della scuola primaria economia quale delle seguenti formi normative contiene il regolamento che detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel dpr 275 1999 quali delle seguenti materie non fa parte di disciplina di primo ciclo di istruzione in base al decreto del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 16 novembre 2012 numero 254 fisica quale delle seguenti materie non è oggetto di insegnamento alla scuola secondario di primo grado secondo l'IPR 89 2009 economia quale delle seguenti patologie non è riconosciuta nella legge 170 2015 se discursi di specifiche di ricerca di apprendimento e disarmonia quale di queste affermazioni non è coerente con la logica nella didattica delle competenze la didattica delle competenze impegni all'alunno a sull'inizio puntino è esposta applicare in modo per dissequo procedure prestabilite per risolvere il problema quale disposizione legislativa prevede il regolamento dell'autonomia didattica all'afficolo 4 dell'IPR 275 del 1999 quale figura professionale è stata posta dal decreto legislativo 59 1998 a veci delle scuole primarie e secondarie nel dirigente scolastico quale tra le affermazioni corrisponde le indicazioni e le linee guida miuro per l'integrazione degli alunni stranieri nell'anno 2014 in caso di iscrizione della scuola dall'anno scolastico già iniziato alunni stranieri vengono in via generale iscritti dalle classiche corrispondenti all'età anagrafica salvo casi previsti con delibera del conto del legge dei docenti quali le affermazioni non è corretta in base al dpr 80 2013 regolamento sul sistema nazionale di valutazioni in materia di istruzione e informazioni sono soggetti incaricati alla valutazione la risposta è gli enti locali quali le affermazioni non è corretta in base al regolamento autonomia scolastica dpr 275 da 9 autonomia di istruzioni scolastiche riguarda risposta inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali quale tra le affermazioni non è corretta le norme sull'amministrazione digitale e la di materializzazione nel settore della scuola prevedono contatti con la segredita scolastica via sms quale fra le alternative non rappresenta una modalità attraverso su cui si realizzano i rapporti scuola-familia nella scuola primaria la partecipazione dei docenti agli incontri del comitato dei genitori quale importante riforma del sistema scolastico è avvenuta nel 1923 riforma gentile quale norma ha abrogato l'esame di licenza elementare decreto legislativo 59 2004 quale organo collegiale dispone l'affidamento dell'insegnamento ed educazione civica collegio docenti quale riforma scolastica nel 2008 è rintrodotto il maestro unico nella scuola primaria riforma germini quale tipo di autonomia non è prevista nel dpr 275 1999 regolamenti in materia di autonomia scolastica l'autonomia normativa quale tra i seguenti è una delle finalità della legge 170.8.10.10 favorire il successo scolastico degli alunni con ISA quale tra le seguenti innovazioni introdotte nella legge 17.1997 il diritto dei bambini disabili ad essere inseriti nei casi comuni alle scuole primarie e secondarie di primo grado quale tra le seguenti un'innovazione introdotta dalla legge 517.1967 diritto dei portatori di handicap di essere inseriti nelle classi comuni alle scuole primarie e secondarie di primo grado quale tra le seguenti non è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite nella raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 musicale quale tra i seguenti comiti non può essere svolto dal collegio dei docenti la valutazione periodica del servizio dei docenti quale tra i seguenti organi scolastici non è interessato da procedure elettive a norma del decreto legislativo 297.1994 il collegio dei docenti quale tra le seguenti affermazioni sugli organi collegiali della scuola è corretta alla luce del decreto legislativo 297.1994 il collegio dei docenti non prevede la patricazione nella presentanza dei genitori degli alunni quale tra le seguenti alternative indica l'acronimo dell'ente di ricerca che ha tra i suoi comiti lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche ed istruzione e formazione professionale in Valsi quale tra le seguenti alternative indica l'acronimo dell'ente di ricerca che ha tra i suoi comiti lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche ed istruzione e formazione professionale in Valsi quale tra le seguenti alternative non è un elemento oggetto dell'autovalutazione di istituto il curriculum stabilito a livello nazionale quale tra le seguenti alternative non è una finalità della legge 170 del 2010 di ricerca e la creazione di classi speciali per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico consentire la creazione di classi speciali per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento quale tra le seguenti alternative non costituisce una modalità di esercizio nell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche che è descritta nel DPR 275-1999 la selezione e l'assunzione diretta e personale scolastico da parte dei singoli istituti quale tra le seguenti alternative non costituisce lo strumento compensativo rivolto agli alunni con disturbi del ciclo dell'apprendimento l'essenzione delle prove quali il dettato è affatico l'alunno senza migliorare le sue prestazioni di scrittura quale tra le seguenti azioni non è affidata all'equipo dei docenti della scuola primaria la certificazione di scritto subito apprendimento dell'alunno quale tra le seguenti non costituisce una delle finalità della scuola secondaria il primo grado in base alla legge 28 marzo 2003 numero 53 relative e successive modificazioni porre le basi all'utilizzo delle mitologie scientifiche nello studio e nel mondo naturale quali sono gli elementi dell'accordo di rete tra le istituzioni scolastiche deve individuare il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche articolo 7 違う 1 1 lo l'organo responsabile la gestione del risorso e raggiungendo di finalità del progetto 2 la durata dell'organo responsabile la gestione delle risorse per il manualità del progetto le competenze potenti dell'organo responsabile la gestione delle risorse e del raggiungendo di finalità del progetto quattro le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete di singole istituzioni, quelli dedicati ai punti 1, 2, 3 e 4. Quali sono gli organi di governo e di gestione dell'attività scolastica a livello territoriale di singolo istituto e gli organi collegiali? Quali sono le discipline selezionate per il test invaso 2019 nella testa media italiano, matematica e inglese? Quali sono le parti coinvolti nel sistema formativo integrato, la famiglia, la scuola e le istituzioni sociali in genere? Quali sono le sezioni nel RAV Rapporto-Autovalutazione con destra risorse, esiti, processi, processi di autovalutazione e individuazione alle priorità? Quali tipi di autonomia sono i conosciuti alle scuole essenziali del DPR 275-1999 didattica? Organizzativa di ricerca, orientazione e sviluppo amministrativo Quali tra i seguenti aspetti delle potenzialità di un alunno non compare nella diagnosi funzionale a livello psico-sessuale? Quali tra le seguenti fonti normative disciplinano la funzione dei docenti in decreto legislativo decennio 97-94? Quando è consigliabile utilizzare le prove MT? Quando occorre eseguire una votazione per la diagnosi di dislessia? Quando è stata introdotta l'educazione civica e tutti gli ordini di scuola? Con la legge di domanda 2-2019 Quando è stato introdotto il requisito dei 24 credi formativi nei settori andro-psicopedagogici e nelle metodologie didattiche per accesso ai concorsi di docennio del 2017 con decreto legislativo 59? Quando si consegue l'obbligo formativo? L'obbligo formativo consiste nel diritto, dovere, di frequenza e di attività formative fino al convivimento agli diciottesimo anno d'età Quando sono state abolite le classi speciali nella scuola italiana? Negli anni 70 del secolo scorso Quando durano in circa il Consiglio di Circo all'Istituto e la Giunta Esecutiva? Tre anni scolastici Relativamente alla definizione dei curricoli Le istituzioni scolastiche determinano il curriculum obbligatorio per i propri alunni modo da integrare la quota esimitiva del livello nazionale con la quota loro riservata Relativamente all'insegnamento delle lingue straniere Quale le eseguente in oriente tra le misure educative, didattiche e di supporto previste dalla legge 170-2010 Resonero l'esame di stato su richiesta da parte della famiglia e dello studente e sei maggiorenni Rispetto alle famiglie, ciascuna istituzione scolastica deve perseguire costantemente la costituzione dell'alleanza educativa dei genitori Rispetto alla famiglia, il quale tra questi strumenti consente di una comunicazione concisiva, scuola, famiglia e una funzione della loro partecipazione, bilancio sociale Scartare alla luce della legge 107-2015 il completamente errato della seguente disposizione Ai fini della proposta di conferimento degli incarichi dei docenti di rigolo da parte dell'organo a ciò deputato possono essere svuoti i testi di selezione Scegliere il completamente errato della seguente affermazione In base al decreto legislativo 62-2017 l'autorizzazione dei studenti ha finalità selettiva Scegliere la lettera o la lettere corrette A norma del decreto legislativo 165-2001, dirigente scolastico e organizzatività scolastica secondo i criteri di A. efficacia formativa B. efficacia formativa A. efficienza formativa B. efficacia formativa C. progressività D. agenzualezza Solo la A e la D Ossia efficienza formativa ed efficacia formativa Scegli la lettera o le lettere corrette La legge 107-2015 ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i ruoli personali e docente siano si divisi in A. sezioni separate per i gradi di istruzione B. classi di concorso C. tipologia di posto C. A. sia B. che C Scegliere la lettera o le lettere corrette La legge 107-2017 ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i ruoli personali e docente siano suddivisi A. sessioni separate per i gradi di istruzione B. classi di concorso C. tipologia di posto C. alla B. che C Scegliere le lettere corrette Alla luce dell'IPR 275-1999 Il piano triennale e l'offerta formativa Indica l'insegnamento delle discipline Tale a coprire A. il fabbisogno di posti comuni B. fabbisogno di posti in sostegno dell'organico O dell'autonomia C. fabbisogno di posti per il potenziamento L'offerta formativa C. a. sia B. sia C Scegliere le lettere corrette Alla luce dell'IPR 275-1999 Il piano triennale e l'offerta formativa Indica Gli insegnamenti dei discipline etnetali Da coprire A. il fabbisogno di posti comuni B. fabbisogno di posti di sostegno dell'organico O dell'autonomia C. fabbisogno di posti per il potenziamento L'offerta formativa C. a. sia B. sia C Scegliere le lettere corrette In base alla legge 8 ottobre 2010-117 Gli studenti con diagnosi di DSA Sono garantiti e diseguate forme di verifica e di valutazione Per quando congene gli esami A. di Stato B. di ammissione università C. universitari C. a. sia B. sia C Se si afferma che Antonio nel termine dei sei mesi All'inizio dell'anno scolastico Sarà perfettamente integrato nel gruppo di classe In termini di DSA C. ci sta formulando una finalità Secondo il decreto legislativo del 1997-1994 Articolo 7 Il collegio di docenti composto dal personale docente di ruolo E. non di ruolo In servizio, nel curriculum, nel istituto, nel presiduto, dal lettore didattico o dal preside Secondo il decreto legislativo del 1997-1994 Articolo 7 Il collegio di docenti ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo d'istituto Secondo il decreto legislativo del 1997-1994 Il consiglio di istituto e istituzioni scolastiche è costituito anche dai rappresentanti Il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei genitori e degli alunni Secondo il decreto ministeriale 850.015 del minuto Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo assorre le finalità di pericurare i commettenti professionali del docente Secondo il DPR 249-1998 La comunità scolastica promuove tra i suoi componenti la solidarietà Secondo il DPR 249-1998 La scuola è il luogo di educazione e formazione mediante il sviluppo della coscienza critica Secondo il DPR 249-1998 Studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola Si ne ha diritto Secondo il DPR 275-1999 La realizzazione di iniziative di recupero del sostegno di comunità e di orientamento scolastico e professionale E' assicurata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia didattica Secondo il DPR 275-1999 Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e del trasformamento delle cienze discipline E della loro seguità nel modo più riguardo al tipo di studi e ritmi di apprendimento degli alunni nell'esercizio della autonomia didattica Secondo il DPR 275-1999 Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle cienze discipline e delle attività In modo più adeguato il tempo di studi e ritmi di apprendimento degli alunni nell'esercizio della autonomia didattica Secondo il DPR 89-2009 Nella scuola secondaria di primo grado al tempo prolungato il monte ore è determinato mediante i mediamente in 36 ore settimanali Secondo il DPR 89-2010 i percorsi liceali hanno durata quinquennale e si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare Secondo il DPR 89-2010 la quota dei piani di studio rimessa nelle singole istituzioni scolastiche nell'ultimo anno non può essere superiore al 20% al monte del ruolo complessivo Secondo il DPR 122-2009 nella scuola secondaria di primo grado di votazione Il comportamento è espresso collegialmente al Consiglio di classe con voto numerico in decimi e accompagnato da relativa nota illustrativa Secondo il regio decreto 347 del 28 novembre 1861 meglio noto come legge casati la scuola elementare era articolata in due cicli entrambi i biennali in cui uno, quello inferiore, obbligatorio e gratuito Secondo il regolamento recante alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei quante ore annuali obbligatorie sono previste per l'attività e insegnamenti del liceo scientifico del primo biennio e tutto 191 ore Secondo il regolamento recante alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia del primo ciclo di istruzione decreto il ministero delle istruzioni universitari della ricerca recendo 54 nel 2012 a termine del percorso sienale della scuola dell'infanzia era ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato attitudine a forza e a forza di domande a senso di questioni etiche e morali Secondo la definizione della legge 170-1-10 cosa si intende per distortografia? un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà sui processi linguistici di transcodifica Secondo la direttiva del ministro di istruzione dell'università da ricerca 27 dicembre 2012 relativa ai bisogni educativi speciali i principi della base di integrazione scolastica si fondano su una logica di inclusione Secondo la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 i disturbi riproduttivi specifici non rientrano i disturbi neuro-psychici Secondo la legge 107-2015 l'alternanza scuola-lavoro può essere svolta con modalità dell'impresa formativa Secondo la legge 170-1-10 con il termine di sculia si intende il disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri Secondo la legge 5 febbraio 1992-104 l'articolo 13,5 nella scuola secondaria di primo primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno con priorità realizzative e sperimentali Secondo la legge 53-2003 la scuola primaria è articolata in un primo anno al raggiungimento della strumentalità di base di periodi didattici e biennali Secondo la legge 53-2003 e successive modificazioni della scuola secondaria di primo grado è articolata in un bienio in un terzo anno che completa priorizzamente i percorsi disciplinari ed assicura l'orientamento dell'accordo con il secondo ciclo Secondo l'articolo 23 dell'ordinanza ministeriale 650 del 2018 ogni alunno ha il diritto di utilizzare strumenti complessivi coordinati nell'inizio dell'anno del PDP anche durante l'esame di Stato Secondo l'articolo 34 della Costituzione italiana le borse di studio e le provvidenze statali erogate per i capaci moltevoli primi mesi sono previste sui non raggiungimento dei gradi più alti degli studi Il video termina qua per altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche Grazie! 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 Grazie!